Ha lasciato il carcere per essere portato ai domiciliari il giovane palmese Angelo Azzarello, accusato dell'omicidio della fidanzata Alina Condurache. A disporlo il GUP del Tribunale d'Egrigento Alessandra Vella, che ha accolto la richiesta del legale difensore del 26enne, l'avvocato Santo Lucia. Ricordiamo che il giovane, al quale sarà applicato lo strumento di controllo del braccialetto elettronico, era uscito dal carcere ed era stata disposta la detenzione in una struttura psichiatrica, dove doveva essere sottoposto ad alcune terapie. Adesso la decisione del giudice è di portarlo a casa. L'omicidio avvenne nel dicembre 2014 in un appezzamento di terreno della famiglia Azzarello. Il giovane avrebbe ucciso la ragazza, di quattro anni più giovani di lui, con due colpi di pistola, uno all'inguine e l'altro all'addome, dopo un litigio scaturito dal fatto che la giovane straniera volesse interrompere la loro relazione, iniziata meno di due mesi prima. Ricordiamo che Angelo Azzarello, giudicato con il rito abbreviato, aveva dapprima confessato l'omicidio, per poi difendersi, dicendo di aver sparato per sbaglio. Ho tolto la sicura e sono partiti i colpi. Si difendeva nello scorso mese di novembre.